Al teatro di Laterina, in scena, che mi ci prende l'anima, il diario di Eva Maria sotto la croce, di Dario Faux e Franca Rame. Vediamo quali sono gli altri eventi in Toscana. Al museo del tessuto di Prato, in mostra, i costumi di Maria Antonietta. Al cinema, la commedia, anche senza di te, con Miriam Catania, Nicola Spaporidis e Matteo Branciamore. È tutto, alla prossima puntata di Idea, la Toscana da vivere.